Continua il cammino della San Cataldese nel girone I di Serie D. La squadra del tecnico Pietro Infantino si appresta a fare visita al Canicattì nel match in programma domenica prossima alle 14.30 e valido per la ventesima giornata del campionato. Intanto in settimana la società Verda Maranto ha dato il benvenuto al giovane portiere classe 2002 Domenico Lamagra, nato proprio nel comune Agrigentino e cresciuto nelle giovanili dell'Avellino. La San Cataldese quindi si appresta a fare visita al Canicattì con l'intento di portare a casa l'intera posta in palio. Il 2023 infatti è iniziato nel migliore dei modi per i Verda Maranto che hanno ottenuto due vittorie consecutive in altrettante uscite. La sfida del Bordonaro è un autentico incontro ravvicinato fra le due formazioni con il Canicattì a 20 punti in piena zona play-out ma con una partita in meno alla ricerca di una vittoria che possa allontanare la parte pericolante della classifica. La San Cataldese invece in una posizione va alla ricerca della continuità ed i tre punti che potrebbero schiudere dolci scenari a inizio stagione in attesi. Questa è la ventesima giornata del campionato di Serie D Girone I con le partite tutte in programma domenica 22 gennaio alle 14.30. Canicattì San Cataldese, Castrovillari Vibonese, Catania Licata, Città di Sant'Agata Santa Maria Cilento, Città Novese Realla Versa, La Mezzia Terme Acireale, Locri Ragusa, Paternò Trapani, Mariglianese San Luca. Grazie a tutti.